Closet Vediamo cosa fa ora Buona rinquisizione qui Hanno trovato il go del pari, i loro sforzi sono stati assolutamente ripagati Tutto da rifare dunque, si riparte come se si fosse ancora sullo 0-0 Certo è che ora potranno sfruttare le linee del match All'altro vantaggio Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1